Musica Molto bene il settore della ristorazione in queste feste lo riferisce al presidente della Fipe VCO Massimo Sartoretti Verbagna la chiusura del Pozzo 1 potrebbe mettere in crisi il sistema spiega Acquanovara VCO Marchionini a una campagna mediatica Nuovo istituto Maggio a Stresa al momento rispettato il cronoprogramma dei lavori pronto nel 2025 E sono partiti nei giorni scorsi i lavori di ampliamento del caseificio di Oira a Crevola d'Ossola Venerdì mattina parziale evacuazione del COC di Omenia per un allarme antincendio e un'esercitazione garantite le prestazioni sanitarie Nella nuova puntata di Extra parliamo di Ettore Tibaldi e delle borse di studio per studenti di medicina a lui dedicate Una buona serata dalla redazione di VCO Notizie ben ritrovati a questa edizione del nostro telegiornale Vento in poppa in queste vacanze di Natale per il settore della ristorazione con anche un nuovo pubblico che sta scoprendo i nostri territori Lo ha riferito il presidente Fipe VCO Massimo Sartoretti Alla grande il settore della ristorazione in queste feste tra pranzi di Natale, cenoni di Capodanno e non solo Lo riferisce il presidente della Federazione Italiana Pubblici Esercizi del VCO e ristoratore Massimo Sartoretti Una situazione molto positiva con un neo evidenziato dallo stesso Sartoretti che fa eco a quanto già dichiarato dagli operatori turistici Manca la neve anche se gli impianti stanno facendo miracoli per le aperture per innevare le piste spesso lottando contro temperature davvero anomale Una nevicata in questo momento sarebbe manna dal cielo, rimarca il presidente Fipe Lo stesso traccia, dicevamo comunque, un quadro roseo con Natale e Capodanno che hanno visto il tutto esaurito nei nostri ristoranti Sartoretti descrive un'euforia generale nelle persone che hanno voglia di uscire, di stare insieme, di pranzare o cenare fuori casa E ad essere full sono tutte le tipologie di struttura, dai ristoranti più raffinati alle osterie fino ai rifugi di montagna Aggiunge che dopo la pandemia un nuovo pubblico si è avvicinato ai nostri territori Clienti di prossimità che arrivano oltre che dalla zona del Milanese, anche dalle province di Asti, Alessandria, Torino Il Basso Piemonte ha iniziato a conoscere ed apprezzare il verbano Cusiossola, prima decisamente ignorato Anche grazie a un'offerta dei nostri esercenti che sta migliorando in modo significativo Un po' di rammarico da parte di Sartoretti per Stresa e per la scelta di essere stagionali Che non condivido, spiega, a fronte di altri laghi che invece hanno strutture aperte e lavorano nel corso di tutto l'anno Più di 243.000 le persone controllate con 61 arrestati e 596 indagati Questo è il bilancio della Polfer del Piemonte-Valle d'Aosta per il 2023 Numerosi anche i sequestri, 30 armi da taglio, 19 armi improprie, oltre a 1,6 kg di stupefacenti Durante l'anno sono state impiegate oltre 13.000 pattuglie in stazione, 2.900 a bordo treno Importanti operazioni straordinarie sono state stazioni sicure, Rail Safe Day per prevenire comportamenti impropri e pericolosi Oro rosso contro i furti di rame Numerosi controlli anche per le merci pericolose Gli agenti della Polfer hanno rintracciato 43 persone scomparse di cui 37 minori La Polizia Ferroviaria è impegnata anche nelle scuole per promuovere la cultura della sicurezza E prevenire giochi e sfide sui binari, sui treni o nelle stazioni che potrebbero avere anche conseguenze tragiche Sono stati 2065 gli studenti coinvolti anche nella provincia del VCO con il progetto Train to be Cool Ha scatenato un terremoto politico l'ordinanza della sindaca Silvia Marchionini Che ha disposto la chiusura del Pozzo 1 dell'Acquedotto in via Brigata Valgrande Martire Passaggio propedeutico alla realizzazione del progetto da circa 9 milioni di euro Per la riqualificazione di Piazza Fratelli Bandiera a Intra Un'ordinanza alla quale si è opposta Acquanovara VCO Dal 2019 abbiamo sempre dato parere negativo alla chiusura del Pozzo 1 Il presidente di Acquanovara VCO Emanuele Terzoli spiega il no della società In risposta all'ordinanza del sindaco di Verbagna Si tratta di una decisione tecnica, prosegue Terzoli dovuta al fatto che la situazione di Verbagna è già precaria E in caso di siccità potrebbe andare in crisi il sistema Ce lo chiede anche il direttore generale del lato E la lettera per il comune è stata firmata dal direttore generale di Acquanovara VCO Andrea Volpe Sul piano politico è arrivato un comunicato di Verbagna Futura, Lega e Fratelli d'Italia Che chiedono di revocare l'ordinanza Una decisione folle e autoritaria contro tutto e contro tutti Non supportata da alcuna oggettiva ragione ma solo dalla fretta di appaltare la gara Per la discussa e controversa sistemazione di Piazza Fratelli Bandiera Prima della scadenza del suo mandato amministrativo Così da non permettere alla futura amministrazione comunale scelte diverse E quindi con l'obiettivo di ipotecare il futuro Suppore sconcerto le reazioni di Ambiente Verbagna Questo progetto nelle sue diverse forme risale ormai al 2014 Spiega Nico Scalfi e per la sua debolezza non ha mai trovato alcuna forma di finanziamento La Regione Piemonte ha negato un contributo all'opera Lo Stato lo ha relegato in fondo alla classifica del bando Pinqua E nessun privato ha partecipato alla gara Per individuare un partner che affiancasse anche economicamente il comune Marchionini ribatte spiegando che la campagna mediatica Di alcune forze politiche di opposizione È tesa a creare allarme nella popolazione Non considera alcuni dati fondamentali Con l'unico scopo di impedire l'attesa da oltre 30 anni Riqualificazione del quartiere Sassonia È della giunta del 2013 Prosegue Marchionini il parere negativo Per la definizione del pozzo a uso idropotabile Risale a sei anni prima Altra amministrazione di colore opposto La sua programmata dismissione Per quanto sia sempre utile un pozzo È pur vero che mantenerlo di fatto Significherebbe annullare per sempre Ogni progetto di riqualificazione Benché proposti sia da Ambiente Verbagna Che dal gruppo Verbagna Futura E aggiunge La collaborazione con Acquanovara VCO È sempre stata ottima E le continue costanti pressioni Perché diventi uno strumento di forze politiche Per fini non istituzionali È un'azione dannosa per la città Ogni esigenza legata al potenziamento idrico È sempre stata soddisfatta con sforzo di tutti E continueremo così Il punto sui lavori al nuovo istituto Maggia di Stresa Con il dirigente scolastico Fiorenzo Ferrari L'edificio è stato coprogettato dai tecnici con la scuola Con studenti e insegnanti Al momento il crono programma dell'avanzamento dei lavori È rispettato Il termine previsto per l'inaugurazione è il 2025 Nuova sede dell'istituto Maggia di Stresa Il cantiere è aperto Che punto sono i lavori? Il cantiere è seguito dalla provincia del Verbano Cusiossola Che ha veramente rivoluzionato l'edilizia scolastica Per quanto riguarda il Maggia E i lavori sono a buon punto Nel senso che il crono programma Da quello che ci dice la provincia E che ci dicono i progettisti È completamente rispettato E io mi sono messo qui per rispondere a questa domanda Perché alle mie spalle trovate Proprio le idee che gli studenti e gli insegnanti Hanno portato ai progettisti rispetto a questo nuovo edificio La provincia ci ha chiesto Come immaginate la scuola del futuro E noi l'abbiamo provato a mettere giù graficamente E quindi questo nuovo edificio ha anche il valore di essere coprogettato con la scuola Quando allora gli studenti potranno sedersi sui banchi da cronoprogramma? 2025 Il termine previsto è nel 2025 Ci sarà anche un'attenzione particolare ai laboratori E tutto quello che sono gli arredi tecnici E quindi stiamo aspettando con gioia questo momento Sono partiti nei giorni scorsi I lavori di ampliamento del caseificio di Oira a Crevola d'Ossora Il progetto costerà complessivamente alle casse della latteria sociale 2 milioni di euro Circa 600 mila sono arrivati dalla regione Piemonte Oira di Crevola d'Ossora Partiti i lavori che porteranno all'ampliamento del caseificio di proprietà della latteria sociale antigoriana I primi interventi hanno riguardato la demolizione di una porzione di roccia Situata al confine con il fabbricato esistente Il prossimo step sarà la realizzazione delle fondamenta Costruito il piano si procederà con la posa del prefabbricato Il cantiere riprenderà dopo le festività Il progetto costerà complessivamente alle casse della latteria sociale antigoriana 2 milioni di euro Circa 600 sono arrivati dalla regione Piemonte Nell'ambito dei finanziamenti concessi dal piano di sviluppo rurale Del progetto di ampliamento si parla da tempo Un passo importante per la cooperativa collettore del latte Prodotto nelle aziende del territorio Che viene giornalmente trasformato in rinomati prodotti caseari L'espansione della struttura ha infatti da inquadrarsi nelle scelte strategiche Che la latteria ha intrapreso da tempo Nell'ottica di ampliare la distribuzione dei suoi prodotti Sia freschi che stagionati La nuova ala del caseificio ospiterà le celle per la stagionatura dei formaggi Oltre al nuovo impianto dove sarà possibile effettuare la scrematura e pastorizzazione del latte In un'altra area del nuovo plesso sarà costruito uno spazio da diviera stoccaggio e confezionamento dei prodotti Dal crono programma i lavori dovrebbero concludersi entro giugno 2024 Venerdì mattina in programma un'esercitazione anti incendio al COC di Omenia Le prestazioni sanitarie saranno comunque tutte garantite Incendio al centro ortopedico di Quadrante di Omenia Parziale evacuazione della struttura ospedaliera Per fortuna si tratterà solo di un'esercitazione Programmata per questo venerdì 5 gennaio a partire dalle 9.30 Nessun allarme dunque tra la popolazione È bene però diffondere il più possibile la comunicazione L'esercitazione, spiegano da ASLA, VCO e COC Sarà finalizzata a verificare la corretta ed efficace applicazione dei contenuti del piano Per la gestione delle emergenze del presidio ospedaliero di Omenia E migliorare l'adeguatezza delle azioni di ogni figura preposta alla gestione dell'emergenza In caso di applicazione del piano È escluso dalla simulazione il personale la cui presenza risulti essenziale Alla sicurezza dell'attività ospedaliera E dalla continuità delle prestazioni sanitarie Che saranno comunque tutte garantite All'esercitazione aderiranno, oltre agli operatori del COC E alla squadra antincendio dell'ospedale I carabinieri, la polizia di Stato La protezione civile Il comando dei vigili urbani di Omenia Il corpo volontario del soccorso di Omenia E i volontari vigili del fuoco del distaccamento omeniese In questo inizio di anno il bilancio 2023 di ACVCO Che ha visto numeri da record e ospiti d'eccezione sul territorio Dalla ministra Locatelli al presidente nazionale dell'Automobile Club Damiani Sticchi Un anno record il 2023 per ACVCO Lo riferisce il presidente Peppe Zagami Che parla di 5.100 tesserati ACI Nel verbano Cusios Le circa 1.000 licenziati ACI Sport Ci siamo messi in gioco per la provincia I risultati ci hanno ripagato Commenta Zagami Personalmente la soddisfazione più grande Legata alla grande partecipazione di centinaia di ragazzi Agli eventi di educazione stradale Di persone disabili Alle giornate delle pirelli Degli appassionati di auto storiche Ai nostri raduni Lo stesso ripercorre l'intenso anno di attività E ricorda a fine novembre Il forum internazionale del turismo a Baveno Con la partecipazione del presidente nazionale ACI Angelo Sticchi Damiani Che ha accolto l'occasione per un aperitivo Con le delegazioni dell'Automobile Club del VCO È stata una bella occasione Per incontrare tutte le strutture dell'ACI e di Sara Soprattutto dare sensazione di vicinanza A chi lavora in maniera importante E chi sta in trincea Che riesce a fare la differenza E far crescere l'ente Aveva dichiarato Sticchi Damiani Solo poco prima Il 12 di settembre La seconda edizione dell'Happy Rally Day Manifestazione dedicata ai giovani disabili Con la passione per i motori Aveva avuto come ospite d'eccezione Il ministro per la disabilità Alessandra Locatelli Dicono dal sodalizio ACI è a servizio Dei propri iscritti E per tutti gli appassionati Delle quattro ruote Vedi ad esempio La biglietteria per i gran premi italiani Di Formula 1 Ma nel rappresentare una categoria così ampia C'è la consapevolezza Di dover giocare un ruolo attivo Nel dibattito pubblico È per questa ragione Che il presidente Zagami Non esita a intervenire nel dibattito Sia che si tratti di argomenti dolorosi Come l'aumento dell'incidentalità E a breve verranno comunicati Gli ultimi dati pervenuti Sia che i temi siano rivolti al futuro Come la sostenibilità ambientale Si cita ad esempio L'adesione della sede di ACI Alla giornata di sensibilizzazione Mi illumino di meno A Domodossola L'aula storica della resistenza Fatto da cornice Alla cerimonia di consegna Delle cinque borse di studio A studenti di medicina Intitolate a Ettore Tibaldi Presidente della giunta provvisoria Del governo della Repubblica dell'Ossola E medico pediatra di professione Ne parliamo nella nuova puntata di Extra Il progetto è stato promosso Dal comune di Domodossola E sponsorizzato da Pediacop Group Un'idea nata la scorsa primavera Da Ettore Ventrella Nel corso della cerimonia Il cardiochirurgo Andrea Audo Ha raccontato la sua passione Per questa professione L'abbiamo intervistato Extra vi aspetta come sempre Il mercoledì alle 20.30 Il giovedì alle 13 E il venerdì alle 18 Vi proponiamo intanto Un estratto dello storico Andrea Pozzetta Che ci racconta proprio Chi era Tibaldi Che originario di Pavia È arrivato a Domodossola Proprio Pavia Negli archivi anche dell'università Gli archivi L'archivio di Stato Nei vari archivi Presenti sul territorio di Pavia Ho appunto potuto iniziare A ricostruire la vicenda Un'attività umana Oltre che poi politica E civile Di Ettore Tibaldi E quindi ho scoperto Proprio un personaggio Interessantissimo Che ha tutta una storia Alle spalle E quindi sono andato Un po' a cercare Anche i motivi Che l'hanno portato A Domodossola Nel 1926 Lui venuto a Domodossola Appunto dopo essere stato Licenziato Dall'università di Pavia Per il suo antifascismo Quindi per il suo Attivismo politico Attivamente è contrario Al regime fascista E ecco Per quanto riguarda La borsa di studio Credo che sia una cosa Molto molto positiva L'iniziativa Assunta dal Dal comune di Domodossola Positiva proprio perché Riprende questo Il nome di questa Grande personalità Che ripeto Non è soltanto Una personalità importante Dal punto di vista Della storia locale Perché Ettore Tibaldi È stato ovviamente Il personaggio principale Uno dei personaggi principali Della storia della Repubblica Dell'Ossola Quindi della resistenza Ossolana Ma in realtà ha avuto Un ruolo molto importante Un ruolo politico Anche proprio nella storia Della Repubblica italiana Lui che è stato Senatore E vicepresidente Del Senato Oltre ad aver assunto Importanti cariche Anche nel mondo Associativo Nell'associazione internazionale Della resistenza Nelle associazioni partigiane In Italia Ma soprattutto Ettore Tibaldi È stato appunto Anche uno scienziato Uno studioso Un medico Che anche da parlamentare Anche nel Senato Della Repubblica Si è battuto Ad esempio Per la riforma Degli ospedali In Italia Negli anni 50 Anni 60 Quindi è grazie Anche all'opera Di Ettore Tibaldi Se la Repubblica italiana Ha tutto varato Tutta una serie Di leggi In favore Del diritto Alla salute Il diritto Alla sanità Nella nuova puntata Dell'Appetito Vi è leggendo Parleremo Della pubblicazione Curata dal Museo Del Paesaggio Di Verbagna In occasione Dell'esposizione Delle due tele Del veronese Scoperte A Villa San Remigio Con il presidente Carlo Ghisolfi E con lo studioso Renzo Villa A Meni Abbiamo poi Incontrato L'insegnante Scrittrice Monica Letizia Che ha da poco Pubblicato La raccolta Filastrocche Per giocare E imparare L'appetito Vi è leggendo Va in onda Il mercoledì Alle 21.45 Il giovedì Alle 14.05 Il venerdì Alle 18.45 Il sabato Alle 20.45 E sui nostri Canali social È nata Sicuramente A scuola In classe Con i ragazzi Perché Soprattutto Il primo quadrimestre Della prima Si fa un lavoro Diciamo Di approccio Alla poesia E il primo approccio È quello Della filastrocca Io insegno Alle scuole Medie Rodari Di Crusinallo E naturalmente Non potevo Non farmi influenzare In qualche modo Dalla grammatica Della fantasia Di Rodari E non solo Da lui Ma anche Dal lavoro Che ha fatto Una collega storica Che è Ersilia Zamponi Con i draghi Locopei Che appunto È un lavoro Sul testo Sulla parola Fatto Naturalmente Seguendo le orme Un po' Di Rodari Per approcciare Diciamo Con i ragazzi A temi Importanti Attraverso la parola Il gioco L'immagine E Non soltanto Per Diciamo Far scatenare L'immaginazione Ma Attraverso La parola E l'immaginazione Creare il pensiero Abrolo Frazione di Nonio Un presepe Diffuso In tutto il paese Con scene Di vita quotidiana Che si possono Ammirare Negli angoli Suggestivi Del borgo Come il lavatoio La piazza Della chiesa Che ospita Il clou Ovvero La scena Della natività Ci ha raccontato L'esperienza La nascita Di questa idea Due giovanissime Cittadine Caterina Piana E Alice Trisconi L'ha conosciuto Per essere Il paese Dei gatti Perché ci sono Tanti gatti Però in questo periodo Di Natale C'è qualcosa Di nuovo Di singolare Di originale Un presepe Che si è Stato Diciamo Calato Direttamente Nel paese Come se tutto Brolo fosse Un grande presepe Caterina Com'è che è nata Quest'idea Di fare Un presepe Non in un posto solo Ma in giro Per il paese Per Brolo Con tutte le cose Diciamo Un po' Calate Nella realtà L'idea L'idea di questo presepe È nata È nata Così per caso Pensando cosa fare Per Natale Abbiamo pensato Che un presepe Potesse essere Una bella idea Parentesi In quel momento Era musso Per dire quanto Aspettavamo Natale Vabbè Comunque Grazie Grazie a degli elementi Tipici che abbiamo In questo paese Come ad esempio Appunto Il lavatoio La piazza Dove si faceva già Tutti gli anni Appunto Solo la scena principale Abbiamo deciso Di ampliare Questo presepe A tutto il paese Posizionando Appunto Al lavatoio Le lavandaie Che lavano E raccolgono L'acqua Abbiamo aggiunto Poi i pastori Che sono un po' Sparsi per il paese E che portano E che portano Al pascolo Le pecore Invece In piazza Che è il centro Del paese Abbiamo Abbiamo posizionato La scena centrale Ovvero La capanna Con Giuseppe Maria E il bambino Che E il bambino Che nasce Che appunto Il simbolo Del Natale E E proprio Il centro Del paese Che viene raffigurato Come il centro Del presepe Partendo appunto Delle lavandaie Che abbiamo qui Ci sono Sono tutti Stoffe ricavate Da vecchie cose Per esempio Queste sono Sciarpe Costumi di carnevale Di Caterina Quando era piccola E quando era piccola Sua mamma E tutto qua Abbiamo cose Riciclate A gennaio 2024 Iniziano alcuni Nuovi corsi Dell'università Della terza età Organizzati dal comune Di Verbagna Che si sommano Quelli già partiti Nei mesi scorsi Sono Otto Canto corale Geografia La cura è di casa Arte del giardino Storia dell'arte Cinema che passione Storia romana E nordic trail Per facilitare L'organizzazione Si consiglia Di iscriversi Prima dell'inizio Del corso Consegnando L'apposito modulo All'ufficio cultura Presente sul sito Del comune E in caso di disdetta Informare tempestivamente L'ufficio Per evitare L'addebito Della quota Di iscrizione Siamo allo sport In apertura Il calcio Con le partite Della prossima Fine settimana Big match In serie D Mentre sono ancora fermi Gli altri campionati Dall'eccellenza Alla prima Categoria Nella prossima settimana In a campo Solamente la serie D Con il big match Che ci sarà A Romentino Tra RG Ticino E la prima Della classe Alcione Milano Fermi invece I campionati Dall'eccellenza Fino alla terza Categoria Eccellenza Promozione Prima Riprenderanno Nel prossimo Di weekend Ecco perché Le tante società Del nostro territorio Del VCO E di Novarese Si stanno Organizzando In questi giorni Per programmare Allenamenti E test Amichevoli Al rientro Dei giocatori Dopo la lunga Sosta Per le festività Natalizie Questa sera Il Baveno In campo Contro la Varzese La squadra Di Sottini Peraltro Nei giorni scorsi Ha già affrontato Il Verbagna Amichevole Finita Sul punteggio Di 1 a 1 Sempre Il Baveno Sabato Mattina Sfilerà Invece Il Bagnella Di Davide Tabozzi Domenica Non mancano Le partite In calendario Ad oleggio Alle ore 11 La sfida Tra i padroni Di casa Piacevole sorpresa Della giornata D'andata In eccellenza Guidati Da Galeazzi Ed il Valduggia Di mister Ottina Un quarto d'ora Più tardi L'amichevole Tra i Daboulé Bellinzago Ancora Attivo Sul mercato E il Novara Primavera Fischio D'inizio Alle ore 11 E 15 Nel pomeriggio Invece Alle ore 14 E 30 A Briga Ci sarà La sfida Amichevole Tra i padroni Di casa Dominatori Del campionato Di promozione Un primato Mai messo In discussione Nelle prime 15 giornate Del torneo E l'Accademia Borgomanero Che come già Ripetuto Più volte Dal suo allenatore E dai suoi dirigenti Punta Ad una seconda Stagione Seconda parte Di stagione Da playoff Per centrare Questo obiettivo E ora Il basket Con la Paffoni Che domenica Sarà in trasferta In Campania Prima partita Dell'anno Per la Paffoni Che domenica Sarà di scena In quel di Sant'Antimo Per l'ultima giornata Del girone Di andata Una squadra Quella campana Spiega il vice allenatore Del Rosso Verdi Filippo Pastorello Con il giusto mix Esperienza E gioventù Che ha un quintetto Molto giovane Come media d'età E giocatori Dalla panchina D'esperienza Che possono subentrare E aiutare la squadra A concludere O portare la partita Sui giusti binari Il quintetto È composto da Gallo Giocatore Del grande cambio Di velocità Che si alterna bene Con cantone Play d'esperienza E gestore di ritmo Nello spot di guardia Titolare Il titolare È l'ex Rimini Mennella Con Filiberto Dri Pronto a subentrare Dalla panca Giocatore di talento Che non ha bisogno Di presentazioni Visto che anche Adoleggio E giramondo Nelle ultime stagioni Giocatore Con tanti punti Nelle mani Gli altri esterni Sono standardo E digno Giovani promettenti Atletici E con buona Pericolosità Perimetrale Il reparto lunghi Conta su Colus E Camperidis Giocatori che hanno Pericolosità Anche lontano dal canestro E ottima esperienza Dentro al pitturato Avendo stazze Capacità di movimento Mentre dalla panchina Si alza Aquarisa Un totem Che ha giocato Per diversi anni Questo campionato Sempre in squadre ambiziose Noi andiamo in campagna Per iniziare bene l'anno Consapevoli Che si tratta Di una partita difficile Ma che abbiamo Tutte le possibilità Di tornare a casa Con i due punti La conclusione Di Pastorello E questa era L'ultima notizia E il nostro telegiornale Termina qui Grazie per averci seguiti E buon proseguimento Con le nostre trasmissioni